La cultura si ripensa e non si ferma. La maratona di lettura, importante appuntamento dell'estate feltrina quest'anno dedicato a Gianrico Carofiglio, si terrà in forma diversa dal solito. Non sappiamo ancora di preciso quali saranno le restrizioni tra il 18 e il 23 maggio, cioè le date previste per la maratona stessa. In ogni caso ci siamo adoperati per svolgere un'edizione interamente online. Tutti i relatori che avevamo contattato, tutti gli importanti relatori che avevamo contattato hanno dato la loro disponibilità, prima fra tutti ovviamente Gianrico Carofiglio. Stiamo cercando anche di riorganizzare le letture. Ci sarà la possibilità per tutti quindi di collegarsi direttamente sul sito di Visit Feltre e le pagine social relative. Ci sarà la possibilità di interagire direttamente anche con i relatori attraverso poi la mediazione di un moderatore di tutti gli interventi e le conferenze. La forma digitale è un inedito per questa manifestazione. Sarà di fatto una sfida nuova per noi perché è la prima manifestazione totalmente digitale. L'Ufficio Cultura ha fatto un lavoro importante. Ringraziamo veramente per la disponibilità tutti i relatori e anche poi tutti i lettori che in qualche modo parteciperanno, seppur in maniera diversa ovviamente, a questa edizione. Diciamo che l'obiettivo è riuscire a portare comunque in questo periodo una manifestazione culturale direttamente nelle case. Non è semplice, ci rendiamo conto che non sarà la stessa cosa, ma riteniamo che piuttosto che annullare un evento così importante e così consolidato anche ormai nel tradizionale palinsesto feltrino, sia più opportuno appunto cercare di proporlo con altri mezzi. È il primo evento che facciamo in questa metodologia, quindi insomma sarà sicuramente una sfida importante.